ciao a tutti ragazzi spero che stiate molto bene come al solito benvenuti in un nuovo video oggi sono in compagnia di un'auto che mi fa impazzire sto parlando della bmw m2 normale diciamo è il 3000 turbo 370 i selfie mentre guidi se il cambio manuale non riesce è difficile quindi preferiscono il cambio automatico questa qui invece è un'auto cazzuta posteriore con cambio manuale rispetto allora lo scenario di oggi è un'auto che è probabilmente già mappata almeno quanto so monta un cutback quindi uno scarico lasciando il catalizzatore originale e il resto è modificato aspirazione venturi bellissima che vi faccio vedere dopo intercooler wagner quindi a su prodotti belli ho fatto però un lancio modificato diciamo tra virgolette e mi sono trovato questi risultati nella fatispecie non arriva neanche a 360 cavalli e 500 newton metri 505 diciamo con una curva che a occhio a me sembra tutto originale in effetti e quindi non lo so adesso farò un backup della centralina così ottengo i file dentro gli studio un attimo vediamo cosa è stato fatto magari cosa non è stato fatto magari si pensa che è stata solo modificata ma non lo è la ripristina originale nel dubbio la riprovo vediamo così di partire da una base certa e poi facciamo uno stage 1 plus diciamo perché mancherebbe il down pipe fatto come si deve sistemiamo anche il discorso clap cioè le valvole di scarico che pare non funzionano quindi cominciamo subito devo dire che il vano motore dell m2 fa sempre un certo effetto e questo qui con l'air box e venturi ancora di più guardate che spettacolo bellissimo vi ricordo che sul sito power king trovate questi componenti sono configurabili sono anche acquistabili disponibili ovviamente su ordinazione e possiamo anche ovviamente installarli tornando a noi invece eccola lì andrò a fare un pin out direttamente sulla vettura perché smontare la centralina non ne ho la minima intenzione sempre ai posti più comodi ok lettura backup in corso e fare il pin out su queste centraline è sempre un mezzo trauma però vabbè alla fine il pin out che abbiamo già visto sulle varie competition che vi ho fatto vedere quindi nulla di nuovo allora con grande mia sorpresa ho scoperto che l'auto è già mappata quindi si ha già su una modifica di potenza sono state toccate diverse curve relative ad anticipi coppia vedo un'occhiata veloce si esatto rendimento limitatori turbo però al punto è che non qualcosa non sta funzionando ho visto che anche il bang gli hanno messo hanno cambiato la tolleranza del sensore di battito limitatori di velocità quindi insomma ci sono un po di modifiche ma l'auto di fatto sta spingendo come originale quindi ahimè dovrò riscriverla originale spero di fare meno scritture vista la posizione della centralina però mi serve è necessario fare una modifica c'è un lancio scusate originale per vedere le condizioni veramente di partenza e poi fare una nuova modifica da capo quindi mi toccherà scriverla un po di volte ok ragazzi molto in ritardo sulla tabella di marcia sto scrivendo il file originale che è un originale che ho dovuto ricostruire io perché il suo esatto non c'è non lo trovo da nessuna parte e me lo sono dovuto ricostruire vabbè adesso la scrivo così com'è originale vediamo le curve di potenza e coppia vediamo che giri tutto bene e dopo useremo quello come base di partenza reale e farò il mio la mia modifica la mia mappatura ex novo ok ragazzi abbiamo lì il vecchio mod la modifica rossa la linea rossa anzi e adesso andiamo a vedere con l'originale come si comporterà ok ragazzi vediamo un pochino com'è andata devo dire che il tuning di prima qualcosa stava facendo perché insomma 22 cavalli 38 39 newton metri li ha presi resta il fatto che originale è molto sotto molto sotto al dichiarato quindi questo è un fatto che mi lascia un po' perplesso e niente non posso farci più di tanto adesso mi occuperò al momento di sistemare almeno la mappa cerchiamo di recuperare il recuperabile insomma ok ragazzi ho finito lo stage 1 e prima di scriverlo vi faccio vedere allora i dati del veicolo m2 ovviamente dati della centralina una mev 17.2.g e i dati ovviamente del motore un n55 da 272 kilowatt e vabbè giusto come titolo informativo io ho toccato circa 65 mappe più diversi punti che non sono segnati lì insomma uno stage 1 plus completo ok ragazzi sto scrivendo il file mappato eh sì non fateci caso non è più sul banco perché mi serviva per un'altra macchina adesso tempo di finire le operazioni tempo di liberare il banco e la riproviamo ci siamo ragazzi l'M2 è ancora sul banco finalmente si sta scaldando un po' dopo quando sono pronto testiamo il file modificato finale ok ragazzi abbiamo linea verde l'originale linea rossa il modificato esterno diamo un'occhiata alla nuova taratura come lavora fantastico molto bene direi che ci siamo alla grandissima ecco il nuovo modificato ottenuto due lanci migliori l'incremento è di 42 cavalli e circa 86 newton metri guardate le curve come sono cambiate rispetto a prima il risultato è perfettamente in linea a livello di incrementi con quello che si fa di solito su questi motori il problema è che si partiva da una base originale vi ricordo molto molto sotto le quote dichiarate per cui i numeri non riescono ad andare over i 400 quelli che si fanno di solito voi vi starete chiedendo perché a Fabio c'è questa discrepanza tra l'originale dichiarato e l'originale misurato eh ragazzi la risposta che posso darvi nel momento è una sola ma io che cazzo ne so scusate no ma perché no sì e sì perché io purtroppo allo stato attuale non ho modo di verificare da dove arriva questa mancanza di potenza indubbiamente c'è qualcosa che sta lavorando male prima cosa che mi viene da pensare c'è ancora il cazzo originale in mapper è stato fatto il bang magari il cazzo è rovinato oppure i componenti racing che ha montato non sono nuovi sono stati presi usati di recupero potrebbero non essere più efficienti io non ho gli strumenti al momento per individuare la cazzo si potrà fare vedremo col cliente se vorrà indagare io per il momento mi devo fermare qui perché i parametri a mio avviso sono corretti e i numeri come delta come differenza ci sono in pieno per cui adesso la smonto e la vado a provare perché questa ragazzi non me la posso perdere sono emozionato ragazzi un'auto di questo calibro col cambio manuale mi emoziona andiamo con molto rispetto mamma mia basta 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 allucinante fantastica sono belli i cambi automatici ci ho scherzato prima all'inizio del video però ovviamente hanno un tempo di cambiata diverso molto più bello però il feeling che ti dà un auto del genere con un motore così manuale è impagabile non c'è nulla che può reggere il confronto per il resto che devo dire la macchina spinge da paura prima l'ho provata anche un bel po' è ovviamente soddisfacente peccato per come ho già detto il fatto che manchi un po' da originale ok ragazzi devo dire gran gran figata questa qui è un'auto definitiva divertente sportiva vera trazione posteriore quindi dalla parte giusta per i BMWisti devo dire assolutamente divertente peccato che da originale non faccio i numeri che dichiara la causa ci sarà di sicuro bisognerebbe solo trovarla vedremo se sarà nostro compito o verrà portata in officina per un check meccanico completo io comunque sono contento del risultato è arrivata con una mappa comunque un po' scarsa scarica con il bang attivato su un motore con ancora il cut applicato quindi non bene ecco io non lo consiglio mai ho ripristinato diciamo il bang originale che un pochino lo fa un po' di barbol ma niente di esagerato sistemata la mappa direi che adesso l'auto è tutta un'altra cosa io spero che il video vi sia piaciuto fatemelo sapere come al solito qua in alto noi ci vediamo con il prossimo mi raccomando seguite sempre PowerKingship Tuning sui social Instagram Youtube Facebook chi più ne ha più ne metta mettete le che poste condivideteli così che le piattaforme capiscano che contenuti sono buoni che più persone magari dovrebbero vederli ciao a tutti buona serata